Ci resumiamo brevemente il progetto? Sì, i progetti sono diversi, due sono quelli, diciamo così, finanziati in parte dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi. Il progetto è uno dei più importanti, è quello che, diciamo così, manda 27 ragazzi in vacanza, in autonomia, senza i genitori, accompagnati da educatori e da volontari. Questo progetto, insieme all'altro, che è il progetto di sollievo e di autonomia, che fa uscite con i ragazzi, diciamo serali, che fa delle giornate, diciamo così, fuori casa, facendo nozioni di cucina, di come si gestisse un piccolo gruppo. Il progetto viene gestito, diciamo così, dall'associazione Tesoro Nascosto, in collaborazione con l'associazione Progetto per la Vita, e viene fatto qui a Carpi in una casa, data e incomodato d'uso, in via Cadalosto. Il progetto Vacanze, invece, è un progetto, come ho citato prima, che viene fatto e finanziato in parte dalla Fondazione Cassa di Risparmio, dall'ufficio piano del Comune di Carpi, o cioè i servizi sociali, da, diciamo così, risorse proprie della Fondazione Progetto per la Vita, e viene fatto una settimana al mare a Pinarella di Cervia. Questi progetti, insieme a tanti altri, che comunque citerò durante la conferenza stampa, hanno tutti una finalità, e sono tutti legati a un filo virtuale, un filo rosso virtuale, che è quello di portare i ragazzi fuori casa, in autonomia, sul durante e dopo di noi. E ringrazio.